segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è facile però Renzi lì c'è un sistema che si chiama preferenze ed è bellissimo e quindi le persone che stanno qui a casa avranno una scheda e metteranno un nome e un cognome e dovranno mettere no basta il cognome adesso sì però per dire che mai come un sistema come quello è io ho scelto quella persona e siccome mi hanno sempre detto che io non ci mettevo la faccia che io pensavo soltanto ai giochi di palazzo ora sui giochi di palazzo qualcosa combinato è vero lo ammetto sta pensando a qualcos'altro sto pensando a metterci la faccia e dire chi mi vuole mi vota chi non mi vuole non mi vota e però questa libertà è la libertà di chi come posso dire non ha paura del confronto elettorale non sta su twitter o non sta dalla mattina alla sera a nascondersi dietro i capi correnti i capi di partito quindi mi vogliono votare io mi candido in lombardia in piemonte in liguria valerosta sa perché al nord l'impresa l'industria qui noi abbiamo un mondo a livello europeo in cui continuano a menare l'industria europea cioè la politica di questi anni ha menato contro l'industria europea complimenti ci arriviamo subito poi ci si stupisce se vanno avanti i cinesi strano però per chiudere il capitolo giustizia il csm il consenso della magistratura oggi dovrebbe nominare gratteri capo della procura di napoli è una nomina che la convince le piace io i politici non devono mai valutare le scelte del csm bisognerebbe anche che fosse a parte invertite cosa che il csm o meglio una parte del csm o meglio le correnti di alcune correnti si dimentica penso che nicola gratteri sa che io lo volevo ministro come giustizia perché uno di quelli che è capace di scardinare un sistema e quando nel 2014 proposi lui anche venendo da storie diverse perché gratteri ha una forte esperienza internazionale e nazionale dove però è molto attaccato dai garantisti io ero convinto lo sono tuttora che se lui fosse diventato in quella fase lì ministro della giustizia avrebbe dato un bel segnale di svolta è andata in un altro modo oggi se farà il procuratore di napoli gli faccio i miei più grandi gli auguri in bocca al lupo